I nostri occhi contemplano questa culla vuota, ma la nostra fede, come la fede di Maria, ecco già vedono i segni di un bambino, i segni della speranza. Al contrario di Zaccaria che invece si scoraggia e dice ma com'è possibile? Io sono anziano ormai nell'età e mia moglie è sterile, non crede nelle possibilità di Dio, non crede nella potenza di Dio. Allora questa Eucaristia oggi davvero vuole essere proprio questo per noi, vogliamo dire a Dio tutta la nostra fede, gridare a Lui tutto il nostro desiderio di voler credere nel suo potere di bene, nella sua potenza, ecco di poter stravolgere la nostra vita con i suoi segni di grazia, con la sua grazia. E vorrei davvero fare un augurio speciale a voi Polizia di Stato, ecco di questa nostra provincia, ecco di essere davvero i collaboratori di questa grazia del Signore, con il vostro lavoro a volte anche duro, a volte anche rischioso. Voi siete coloro che con la vostra, con il vostro lavoro aprono la strada alla grazia del Signore. E voglio chiedere a tutti quanti voi davvero in questa Eucaristia di pregare per questi nostri fratelli.